Fu istituita nel 1883, si chiamava scuola popolare di disegno ed aveva lo scopo, la qualificazione grafica degli artigiani. Dopo una breve permanenza nell'ex palazzo malatestiano si trasferì nei più ampi e signorili locali del palazzo dei Conti Marcolini fino ai giorni nostri, anzi fino alla fine di questo anno scolastico. Sì perché il liceo artistico a Polloni che prende il nome dall'illustre scultore romano Adolfo Polloni che ne fu anche direttore per ben 22 anni, fra pochi giorni con studenti, docenti e segreteria lascerà lo splendido palazzo signorile per iniziare dal prossimo anno scolastico una nuova fase della sua vita trasferendosi nei locali a San Lazzaro utilizzati fino ad oggi dall'Istituto Tecnico Commerciale. L'occasione per l'arrivederci alla sede che fino ad oggi è stata la casa delle arti fanesi è venuta in occasione di una manifestazione giunta alla sua sesta edizione. Sicuramente la nuova sede dove andremo ormai certamente mi viene da dire, dove certamente andremo dal mese di settembre prossimo avrà una connotazione sicuramente diversa ma che i ragazzi e gli insegnanti stanno già allestendo e sistemando per accogliere al meglio questo liceo artistico. Stiamo lavorando già dal luglio dell'anno scorso e da quel periodo abbiamo lavorato in stretta connessione con la provincia, col personale della provincia. Non volete però con questo troncare, dicevamo prima, il legame con questo edificio così importante per la storia di Fano, della scuola e di tutti gli artisti che vi si sono gravitati attorno. Voleste mantenerlo questo contatto? Sappiamo che in questo momento non è possibile perché ci sono delle normative da rispettare, c'è un discorso di sicurezza che va tenuto in considerazione ma scontiamo e speriamo e così anche ieri con l'assessore Mascarin che era presente all'incontro ne abbiamo anche parlato un po', ne abbiamo discusso. È importante che resti un legame con questo palazzo per i ragazzi soprattutto ma credo anche che sia importante anche per la città perché potremmo allestire delle mostre in questi spazi, potremmo aprire dei laboratori che i ragazzi potrebbero tenere per la città e quindi questo legame potrebbe non perdersi e dare nuovo impulso a questa bellissima struttura.